Buongiorno e ben ritrovati al primo appuntamento con l'informazione sul C, la rassegna stampa, questa mattina in primo piano ancora la politica, le riflessioni dopo l'esclusione di Vandaferro dal Consiglio regionale, dalle pagine del garantista, poi le ultime considerazioni del giudice Giancarlo Giusti poco tempo prima di suicidarsi. Ci occuperemo anche della questione del nodo irrisolto che riguarda la provincia di Vibo Valenza e nessun intervento straordinario a quanto pare da parte del Governo. Partiamo subito con la prima pagina del quotidiano diretto da Sanzonetti, titolo d'apertura, lo vedete l'ultima intervista a Giancarlo Giusti prima del suicidio, così muore un giudice, non sono un corrotto, lo sanno benissimo, le drammatiche parole del magistrato che si è ammazzato domenica scorsa, ho sbagliato come uomo ma la mia toga, ha detto, è stata sempre pulita. Intanto proprio sul corpo di Giancarlo Giusti è stata disposta l'autopsia dalla magistratura per capirne di più rispetto al suo decesso. Sempre dalle cronache di questo giornale, taglio alto, prima pagina, il processo ai politici, 15 lunghissimi mesi di galera, poi l'assoluzione, Antonio Commisso ha un cognome pesante ma secondo i giudici non ha nulla a che vedere con i clan. Adesso, chi mi risarcirà, dice l'uomo che ha trascorso oltre un anno dietro le sbarre. E poi, sempre sulle colonne di questo giornale, fotonotizia a centro pagina, guardate la Calabria, terra dei massoni, secondo la rivista del Goi, la nostra è tra le prime regioni per numero di fratelli in Italia. Tre storiche logge chiuse per possibili infiltrazioni della Ndrangheta, da quel che traspare stamane dal garantista. Taglio basso, Accordicchio, PD, NCD, Oliverio replica anche nelle commissioni, mentre sul fronte opposto l'esclusione dal Consiglio di Vandaferro, i destini dell'ex Presidente della provincia di Catanzaro e di Forza Italia, nelle mani dei giudici del TAR, il 20 marzo prossimo il Tribunale amministrativo regionale deciderà se la Ferro ha diritto oppure no di entrare in Consiglio. La decisione potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri dentro Forza Italia. Questa è la pagina di apertura del garantista che chiudiamo con un riferimento alla vicenda degli appalti e delle tangenti, il vero reato di incalza, aver isolato il Sud. Così Teresa Munari, sul dirigente del Ministero delle Infrastrutture, come sapete è coinvolto pesantemente in una inchiesta dell'altro ieri. Falsa politica, siamo alle cronache interne del garantista, partiamo proprio da questo processo, 15 lunghi mesi di carcere, poi l'assoluzione, Antonio Commisso, ex Assessore del Comune di Siderno, porta un cognome pesante, ma secondo un giudice del Tribunale di Locri la sua attività politica non è collegata alla Cosca. Chi mi ripagherà di tutto questo, ha detto il diretto interessato, non c'è niente che possa risarcirmi. E poi vedete i dettagli in questo pezzo a firma di Simona Musco. Ancora dalla stessa pagina, Sarzana, irruzione del clan Romeo al convegno anti-ndrangheta è accaduto in un paese della provincia di La Spezia. La lunga intervista, le ultime parole del giudice suicida, è una giustizia spietata, così muore un magistrato. L'intervista a Giancarlo Giusti poco prima della fine pago i miei comportamenti, ma non ho mai preso soldi dal boss. Sono stato condannato, ha detto Giusti, perché si è partiti dalla considerazione che essendo io un magistrato non avrei dovuto trovarmi in certe situazioni, non avrei dovuto tenere certi comportamenti, ma non sono un corrotto, non hanno trovato un euro sul mio conto. Sempre per quel che concerne la vicenda di Giusti, morto suicida qualche giorno addietro, quando ho capito che potevo protestare la mia innocenza solo con quel gesto estremo e non avevo vicino il suo sogno della famiglia, io l'ho fatto e sono vivo per volontà di Dio, è stato un miracolo, sono serio fino alla fine. Io non ho mai avuto secondi scopi con tutte le mie debolezze, non ho mai avuto doppi fini. E quando ho deciso di protestare la mia innocenza col suicidio non l'ho fatto per finta, l'ho fatto e basta. Io non ho rispettato me stesso, ma il mio lavoro l'ho sempre rispettato. Queste le parole Giancarlo Giusti, sul cui cadavere, ve lo dicevamo poc'anzi, è stato conferito ieri dal magistrato competente l'incarico per l'esecuzione dell'autopsia. I dettagli in questo servizio. È il professore Pietrantonio Ricci, il medico legale incaricato ad effettuare l'esame autoptico sul corpo del giudice Giancarlo Giusti, che è in corso al Policlinico Universitario di Germaneto, nell'ambito dell'inchiesta aperta dal sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, Fabiana Rapino, nella quale si ipotizza l'istigazione al suicidio. Un atto dovuto, sebbene gli inquirenti non abbiano dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio, tentato già due volte in passato, perché di essere additato come colui che indossava la toga al servizio della mafia, non lo poteva più tollerare. Giusti è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione di Monte Paone Lido domenica scorsa, dove aveva l'obbligo di dimora in seguito ad una condanna per corruzione aggravata. L'ex GIP di Palmi soffriva di depressione, secondo quanto emerse già all'epoca del suo primo tentativo di suicidio avvenuto nel carcere milanese di opera, all'indomani della condanna a quattro anni di reclusione, infrittegli nel settembre 2012 per corruzione aggravata dalle modalità mafiose per i suoi presunti rapporti con i Valle Lampada. Nel febbraio 2014 Giusti fu poi coinvolto in una nuova inchiesta all'operazione Abbraccio, in cui fu accusato di aver favorito il clan Bellocco. Secondo il suo legale, l'avvocato Geppo Femia, ci sarebbe stato un accanimento giudiziario nei confronti di Giusti. Si è ucciso per dimostrare la sua innocenza, di ritorno dalla Cassazione, il legale disse a Giusti. Tu puoi avere tutti i rapporti, anche che io non conosco, con Lampada. Puoi avere concordato di fare tutto quello che ti pare, per chissà quanti milioni, ma da queste carte tu per me sei assolutamente innocente. Riprendiamo la rassegna stampa, ripartiamo dalla politica. Tra due giorni arriverà la sentenza del TAR sul possibile ingresso in consiglio regionale di Vandaferro, candidata del centrodestra alle elezioni regionali dello scorso 23 novembre. Stamattina il garantista scrive, caso Ferro, equilibri a rischio, Vanda fiducioso. Il 20 il giudice amministrativo decide su un suo possibile ingresso in consiglio. Partito muto, finora gli azzurri hanno fatto finta di nulla, non sono stati neppure convocati gli organi direttivi, sebbene questa richiesta sia arrivata più volte da diversi membri della compagine che fa capo a Silvio Berlusconi ed in Calabria a Iole Santelli. Ma intanto il malcontento, scrive il garantista, serpeggia sul territorio con spire sempre più avvolgenti, man mano che si avvicinano le scadenze amministrative, e si avverte come non mai la solitudine degli ex numeri primi, senza punti di riferimento certi né a livello provinciale né a livello regionale. Fin qui la politica che riguarda la pagina politica inerente al centrodestra. Adesso passiamo invece al consiglio regionale, Palazzo Campanella, commissioni, inciucio, allargato, a morrone, riforme, la commissione e la riforma andrebbe all'NCD, costi previsti 300 mila euro annui. Ancora i dettagli di questo pezzo, i dettagli di questa vicenda, nel pezzo di Riccardo Tripepi, Alfaniani pronti a collaborare, il capogruppo Arruzzo lo dice, vorremmo camminare insieme a Oliverio su sanità, lavori e infrastrutture. Le poltrone in palio sono diverse, vedete Alforzista, Morrone potrebbe andare alla vigilanza. Il nome più gettenuto per l'antindrangheta sarebbe invece quello di Battaglia. Almeno sono queste le indiscrezioni che fa stamattina il garantista. Rimaniamo sulla stessa pagina, cambiamo adesso argomento. Azienda sanitaria, assunzioni clientelari, la politica di Scarpelli bocciata dai ministeri. Qui vedete il consuntivo del Ministero della Salute sul modus operandi di Scarpelli. Su richiesta dell'ex commissario Pezzi, sotto la lente di ingrandimento, sono finiti i tipi di contratto applicati a soggetti vicini al centro-destra. La terra dei massoni, cambiamo decisamente argomento. I dati del Grand Oriente d'Italia chiariscono e parlano chiaro, dicono in maniera netta ed evidente che la Calabria è la seconda regione del paese per numero di fratelli. Una bella sfida dunque. La Calabria, a rileggere i dati del GOI, è una delle regioni più massoniche d'Italia. Le cifre pubblicate da Erasmo sono attendibilissime per due motivi. Innanzitutto perché il GOI ha un database impressionante per la vastità e per la minuzia con cui è curato. In secondo luogo perché i numeri rispecchiano una tradizione nazionale in base alla quale la Toscana è la regione più massonica d'Italia tallonata dalla Calabria. Infatti la Toscana conferma la supremazia con 3.075 affiliati mentre noi seguiamo a ruota con 2.072 grembiuli. Dietro di noi rispettivamente la Sicilia e poi il binomio Piemonte-Valle d'Aosta. Siamo alle pagine di Catanzaro. Riprendiamo dalla protesta dei genitori davanti ai cancelli della scuola materna di Lido. L'assessore Sgromo si scusa per i disagi, bagni inagibili alla Vivaldi, operai al lavoro dopo ovviamente che i genitori ieri hanno fatto sentire la propria voce dei piccoli allievi della scuola materna. La sentenza, violenza sessuale di gruppo, assolti due berlingeri, sarebbero stati complici di Cappellano, già condannato ad 8 anni di reclusione per aver segregato la compagna in casa. Per i giudici il fatto non sussiste. Sempre dalle cronache di Catanzaro andiamo adesso a occuparci della Fondazione Campanella, virgolettato questa mattina a centropagina, sempre dalle cronache del garantista. Stringere i tempi prima che arrivi un liquidatore, il sindaco ha incontrato i dipendenti del polo oncologico, ieri dipendenti che hanno occupato, lo ricordiamo, gli uffici del Dipartimento Sanità. Si tratta di circa 250 persone, molte delle quali ieri hanno proposto la propria soluzione al sindaco Abramo, che a sua volta ha auspicato un impegno di Regione ed Università per provare a salvare la Fondazione Tommaso Campanella. Dettagli in questo servizio. Stringere i tempi prima che arrivi un liquidatore giudiziale e fare leva sulle reali volontà della Regione dell'Ateneo di salvare la Fondazione, i suoi dipendenti, i pazienti, il patrimonio scientifico. È l'obiettivo del primo cittadino di Catanzaro, Sergio Abramo, che affiancato dal vice sindaco Gabriella Celestino ha incontrato i dipendenti della Campanella che hanno occupato il Dipartimento della Sanità. Abramo intende indire un consiglio comunale straordinario sulla vertenza per fare sentire in modo forte la voce della città e i soci fondatori Regione e Università. Le iniziative di natura giudiziaria per fare sospendere le procedure fallimentari potrebbero non bastare ed essere insufficienti. A fronte della precipitazione degli eventi culminati con la procedura di fallimento, il provvedimento prefettizio di estinzione e il preannunciato licenziamento collettivo, ritengo, ha detto il sindaco, che la collettività della città capoluogo, per essa l'amministrazione comunale, non possa non dispiegare ogni ulteriore impegno e sostegno perché siano ricercate tutte le possibili soluzioni per evitare un autentico disastro dissolutorio. Abramo auspica l'impegno dei fondatori Regione Calabria e Università per una convergenza sull'interesse pubblico conforme alla loro funzione, che consenta di riavvirare un nuovo percorso che sarà possibile solo concordando una nuova amministrazione con soggetti e consulenti di indubbia capacità, che come tali possano in una posizione di neutralità mediana a nome della fondazione, prima che arrivi un liquidatore giudiziale. Bene, rientriamo in studio, proseguiamo con la rassegna stampa, rimanendo a Catanzaro, la proposta di Michele Traversa, questa mattina un'area del parco in ricordo di Bisceglia, l'idea dell'ex presidente della provincia di Catanzaro a favore di un giudice, dell'ex termine, perché la città si avvia alle elezioni comunali, le linee strategiche di Sonni e del suo movimento, il medico Lamettino è cittare attiva e incontrano i cittadini in attesa delle decisioni di Soriero sulle primarie. Non ci faremo trascinare, ha detto Sonni, a lungo in questa disputa. Come sapete, l'intento del neocommissario del Partito Democratico è quello di assottigliare il numero dei candidati alle consultazioni previste per i prossimi giorni alla mezza termine. La primaria dovrà scaturire il candidato del centro-sinistra al Comune. Andiamo a leggere i dettagli del pezzo, a firma di Cristian Cozzoli, pochi punti programmatici, alcune linee di intervento per portare avanti la candidatura di Tomasso Sonni al sindaco di Lamezza e attraverso le primarie del centro-sinistra. Questo è il contenuto dell'incontro con i cittadini tenutosi ieri al Teatro Grandinetti con protagonista la lista città reattiva. È stato preso in considerazione ovviamente il programma del medico Lamettino che secondo i rumor sarebbe tra i più quotati esponenti in corsa per la candidatura di primo cittadino in attesa del pronunciamento ufficiale dell'organo commissariale guidato appunto da Soriero. Ancora su questo tema andiamo ad approfondire altri dettagli del pezzo. Si scrive sempre che è stato lo stesso Tommaso Sonni a delineare le linee strategiche della sua ipotetica amministrazione, un'amministrazione della quale afferma il medico non mi prendo la responsabilità da solo ma quello che bisogna fare deve essere portato a conclusione insieme a tutti i cittadini. Intanto acque agitate nel centrodestra a la mezza terme, Mascaro sarà il candidato di Forza Italia, Roberto pronto a dar vita ad un progetto alternativo al di fuori dei partiti. Dettagli in questo servizio di Tiziana Bagnato. Mentre il centrosinistra naviga a vista con un commissario del PD appena rientrato da Roma e che in questione cercherà di fare sparire qualche pedina da una scacchiera decisamente troppo affollata, il centrodestra Lamettino gioca la propria partita sul concetto di politica e dei partiti. Una riflessione ampia più volte riproposta da due dei candidati Pasqualino Roberto e Paolo Mascaro che ha stupito e continua a stupire l'elettorato ma che trova fondamento non solo nel passato personale dei due concorrenti ma anche nella storia recente della città. Da un lato Pasqualino Roberto fuoriuscito dal nuovo centrodestra non ha paura di attaccare il concetto stesso di partiti definendoli feudi chiusi in cui vengono prese decisioni da imporre agli altri. Dall'altro Paolo Mascaro avvocato ex dirigente della Vigor Lamezia che al suo debutto in politica spiega che il mondo civile senza il sostegno dei partiti non può andare oltre un certo limite. Dalla sua Mascaro a forza Italia Udc oltre all'Unione di Centro i Cristiani Democratici Uniti, i Repubblicani ed il nuovo PSI. Una compagine che secondo Mascaro avrebbe decretato un plebiscito nei suoi confronti portandolo a dire che in realtà Roberto non è un candidato del centrodestra. Affermazione a cui l'ex presidente di Calabria Etica ha recentemente risposto invitando l'avversario a riflettere sulla totale assenza di alcuni dei suoi sostenitori dalla scena politica lamitina. Dall'altro Roberto accusa Forza Italia, principale sponsor di Mascaro, di avere portato tramite accordi con il sindaco Speranza Lamezia alla sua attuale situazione. Rimaniamo alla mezza terme, parliamo adesso della gestione teatrale fallimentare, vedete il titolo, il presidente del Consiglio Grandinetti presenta due spettacoli a costo zero per il Comune, non mancano le polemiche all'interno delle strutture, ha detto Grandinetti, abbiamo avuto sempre le stesse associazioni. A proposito di Lametino, passiamo adesso a Soveria a Mannelli, nessun debito, l'erogazione dell'acqua non sarà diminuita, tra i 37 comuni destinatari dell'ultimatum della Sorical c'era anche quello di Soveria, Pascuzzi sottolinea nessuna penalizzazione, abbiamo risanato i conti. Dalla mezza terme a Vibbo Valencia con i lavoratori della provincia sul piede di guerra, Bocci ha escluso misure straordinarie per il caso Vibbo, la parlamentare Nesci ha incontrato ieri alcuni dipendenti e telefonato al sottosegretario. Le somme in arrivo potranno servire per pagare gli stipendi. Allora andiamo a capirne di più sull'emergenza che riguarda Palazzo Xenel in questo servizio realizzato da Cristina Iannuzzi. Nessuno salverà Vibbo, non il governo, non il sottosegretario del Ministero dell'Interno Gian Piero Bocci, al quale si erano rivolti la scorsa settimana gli amministratori vibonesi. Proprio lui pare abbia chiarito di non avere nessuna intenzione di mandare neppure un euro in più alla provincia di Vibbo Valencia. Di risorse straordinarie da assegnare all'entendissesto dunque non se ne parla proprio. La doccia fredda poche ore fa, direttamente dalle parole della deputata del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci. Ho parlato con il sottosegretario Bocci al telefono poco fa, mi ha chiaramente detto che non c'è nessuna intenzione di intervenire in maniera straordinaria sulla provincia di Vibbo. Questo è tragico ed è per questo che da mesi come Movimento 5 Stelle abbiamo proposto di parlare di questione vibonese, perché c'è la questione dei dipendenti, ex dipendenti di Talcementi, di Gamoyle, adesso dei dipendenti della provincia. È una situazione insostenibile. Se il governo non vuole intervenire in maniera straordinaria, si blocchino subito i mutui da dare alle banche e poi perché non intervenire con il reddito di cittadinanza? È l'unica misura che in questo momento può sostenere le famiglie in povertà e in difficoltà. Questa è la situazione a Vibbo Valencia. Andiamo ad approfondire il pezzo che troviamo stamattina sulle pagine del Garantista per favorire il pagamento dei dipendenti. L'avete appena sentito, la deputata Nesci ha telefonato ieri pomeriggio al sottosegretario Bocci chiedendogli notizie riguardo all'ultimo rato del Fondo di Riequilibrio 2014 che l'entrava ricevere lo scorso autunno. A Bocci è stato chiesto anche se la somma in arrivo pari a circa 1,4 milioni di euro potrà essere utilizzata per le spettanze del personale della provincia. Il sottosegretario ha chiarito che le somme in questione potranno servire a pagare i dipendenti. Nesci ha chiesto anche al governo di adottare misure straordinarie che sono state però escluse dal Ministero dell'Interno. Questa è la situazione mentre, come avete appena sentito dal servizio andato poc'anzi in onda, Vibbo e la sua provincia divengono paradigma di una profonda crisi economica e sociale. Sentiamo. Da una parte l'ex senatore Francesco Bevilacqua, uno dei nemici giurati di Elio Costa, dall'altra tra le truppe di Pietro Giamborino, battuto alle primarie dal candidato del PD Antonio Lo Schiavo, prende lentamente forma il terzo polo a Vibbo-Valenzia, con qualche aggiustamento in corsa non proprio irrilevante. Ovviamente non era questo il servizio inerente alla provincia di Vibbo-Valenzia, ce ne scusiamo appena la regia lo preparerà, proveremo a metterlo in onda. Dovrebbe essere già pronto da quello che mi dicono. Allora dunque possiamo ritornare al cosiddetto caso Vibbo, alle difficoltà vissute dal territorio con tante vertenze aperte. La lettera vergata dal Presidente Andrea Niglia e dal Segretario Generale Cesare Pelaia ha il sapore della precettazione. Tra le righe riconoscono come legittime le rivendicazioni del personale dell'ente, circa 380 dipendenti che attendono il saldo di ben 6 stipendi e che hanno proclamato lo stato di agitazione, ma, scrivono Niglia e Pelaia, dirigenti e rappresentanze sindacali e unitarie sono tenuti a vigilare affinché ogni impiegato presti la ordinaria e dovuta attività. Niente presidio o sembramenti nell'androne o nei corridoi, tutti negli uffici a svolgere il proprio compito, anzi, dirigenti preposti RSU sono chiamati ad assumere e la disposizione del Presidente e del Segretario Generale idonee iniziative per scoraggiare comportamenti non corretti e appropriati. I sindacati masticano amaro e per i dipendenti la comunicazione lascia quasi il tempo che trova. Portafogli e frigoriferi spogli sono le priorità che si affrontano con l'unica arma della protesta dura e a oltranza. Agitazione e assemblea permanente, iniziative sindacali utili a tenere alta l'attenzione sul caso anche a livello mediatico. Tutto questo mentre gli stessi dipendenti si dividono tra i picchetti all'interno di un palazzo dagli uffici ormai vuoti e quella tendopoli delle vertenze allestita a Piazza Martiri d'Ungheria, divenuta metafora della sofferenza di una provincia nella quale la rabbia contrasta la stanchezza incipiente. Riprendiamo ancora dalle cronache vivonesi del garantista e ripartiamo dal Parco delle Serre al via la campagna per le scuole da marzo a giugno partiranno una serie di progetti destinati agli alunni delle primarie per la valorizzazione del patrimonio naturalistico. Ancora dettagli da a questa pagina, Movimento 5 Stelle, Urbani dica quanti sono i posti letto nell'ospedale, emergenza Vibo anche in questo caso, con la parlamentare delle 5 Stelle Nesci che a margine della visita dell'ospedale Iazzolino ha posto questo quesito appunto al vice commissario Urbani. Piana di Gioia Tauro, rimaniamo alla Sanità, nuovo ospedale, centro-sinistro unito contro i campanili, conferenza stampa del PD di Palmi, Gioia e Seminara, vittoria della Piana risposta ai meschini che hanno remato contro così i Democrat dopo l'annuncio della costruzione del nuovo nosocomio sulla piana di Gioia Tauro. Sempre da questa zona, Cittanova, l'imprenditore Cosentino, bidona di nuovo il PD, il famoso vertice richiesto da due mesi ancora rinviato dal Sindaco per un impegno imprevisto, appuntamento giovedì, idem sono certi del faccio a faccio, ma il primo cittadino convoca per la stessa data anche gli altri alleati. La Locride, qui siamo alla sentenza, vedete che di condanna per complessivi 11 anni, aiutarono i latitanti, giudicati colpevoli in appello ai fiancheggiatori della fuga di Francesco Perre, carceriere di Alessandro Sgarella e Saverio Trimboli. Sempre dalla Locride, Martone, incendiate due auto alla consigliere Calvi, questa la cronaca. E poi il piano tardivo, vedete il Sindaco Calabrese ha sbagliato, ecco i motivi della bocciatura del ricorso del Comune contro la delibera della Corte dei Conti che aveva rispedito al mittente la rimodulazione del piano di riequilibrio. A Bobalino, tasse pagate, servizi zero, la minoranza sul piede di guerra contro il primo cittadino. Queste le cronache dalle pagine del Garantista, ora spostiamoci su quelle della provincia di Cosenza. L'apertura questa mattina, vedete, dedicata un po' al reddito garantito, ma soprattutto alle recenti inchieste, agli scandali che si sono verificati a Roma. Enza, facci sognare, grandi opere, erba e reddito minimo. Bruno Bossio, siamo con te, così provocatoriamente il quotidiano diretto da Carchidi. Poi alcuni richiami, partiamo dalla gara del secolo, il faida interna al PD per l'azienda di Gallo. Sul Tirreno Cosentino le verità nascoste, rivelate da presa diretta. Infine il sindaco di Cosenza Occhiuto che pensa alle elezioni, mentre c'è una civica regalata ai greco. Cronache interne, si ritorna alla morte del magistrato Bisceglia. Masciata è il caso dell'ex giudice, è il primo media calabrese che ha il coraggio di riprendere la nostra inchiesta. È stato chiarito e poi ancora, vedete Enza, Pollichieni, Minniti e quella gara del secolo. Si ritorna, vedete, ad alcune note vicende. Il Corriere della Calabria, da sempre vicino al PD, attacca la Bruno Bossio. Il direttore non ha gradito la fuga di notizie sul bando da 48 milioni che adesso rischia di saltare per aria. Siamo adesso alla mezza terme, Roberto e la sfida in tv a Piazza Pulita, Movimento 5 Stelle fuori i nomi. La Calabria fa sempre parlare male di sé sui mezzi di informazione. L'incredibile faccia tosta del Deus ex machina di Calabria etica, la gaff di Dalila Nesci e i veri motivi del 5% dei grillini alle ultime elezioni regionali. Nel programma, vedete, Piazza Pulita in onda sulla 7. Avete mai visto un grillino fare il nome di uno dei tanti politici corrotti della Calabria? Questo è il punto interrogativo del giornale diretto da Carchidi. La pagina della sanità, l'affronto di Oliverio, si parla di azienda unica regionale, ma è davvero questo ciò che serve alla Calabria? Si chiede stamattina appunto la provincia di Cosenza. Sapete che il piano del governatore è quello di eliminare le aziende sanitarie provinciali e dar vita ad un'unica azienda regionale per quanto concerne la sanità. Bene, noi ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, spazio e suggerimenti commerciali, ma rimanete sulla C perché tra pochissimo la rassegna stampa riprende. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia.